Ciao ragazzi, bentrovati, qui ci troviamo al centro del parco di Veio perché siamo in uno dei punti focali che contraddistinguono il territorio di questo parco ed è il fiume Valchetta che in antichità si chiamava Cremera dove si svolgeva la massima parte della vita del popolo veiente con tutte le vicende storiche che ne hanno poi preso piede e cioè l'evento più importante è stata la battaglia contro i Fabbi del 474 a.C. quando Roma decise di muovere guerra contro Veio per una faccenda di sconfinamento di armenti quella era la scusa, la scusa, c'era la fase espansionistica di Roma solo che per oltre 200 anni Roma si è trovata al nord del suo territorio un nemico forte altrettanto quanto lei tanto è vero che l'accorpamento dello spirito degli etruschi veienti è stato uno degli elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'impero romano questa spinta interiore che fa nascere da questa piccola città, da questo piccolo coacervo di persone per lo più pastorio quant'altro eccetera questa spinta, enorme spinta verso l'esterno per riprendere il discorso di prima indicazione e a motivazione di quello che è stato detto va rilevato che Roma nella sua prima fase di crescita si è espansa soltanto a sud a danno degli altri popoli che c'erano sul lato sud a partire dal Tevere a scendere verso la bassa Italia quindi qui ha trovato un freno nella parte nord perché c'era questa entità che per circa 200 anni e ben 14 guerre combattute ha resistito all'espansionismo romano e qui appunto in questo luogo diciamo sacro perché tutti i fiumi allora erano sacri come dovrebbero essere sacri anche oggi e quindi andrebbero tutelati oggi sono sacri solo i fiumi di petrolio eh certo, ma anche altri fiumi ah ma là aspetta, più che sacro sono diciamo quotati in borsa il che è ancora peggio allora, la borsa è un tempio è un tempio, è sempre stato il tempio non solo il tempio di rossignori è come ampiamente dimostrato dall'architettura delle borse sono state tutte costruite a forma di tempio non solo il che significa perché per l'or signore quella è la vera religione non solo, c'è di più per oltre 100 anni la borsa di Roma era dentro il tempio romano proprio un antico fino all'altro ieri era l'altro ieri vabbè ed era proprio l'esemplificazione a piazza di pietra a piazza di pietra esattamente piazza di pietra perché c'era il tempio adesso mi sfugge chi era dedicato eh? Adriano ah Adriano esattamente quindi ecco questo per dirla però per tornare al luogo dove siamo noi qui abbiamo una realtà diciamo di contenuto sociale che dovrebbe essere mantenuto e idolatrato come facevano in antichità invece ecco ci troviamo in questo ambiente oramai residuale dove c'è di tutto e di più di sciarpame beh in ogni caso il primo tentativo è stato fatto e tanto è vero che è stato fatto che dopo una battaglia durata una ventina d'anni finalmente siamo riusciti a istituire la prima forma di parco regionale di integrazione tra l'uomo, l'ambiente e soprattutto i reperti archeologici esattamente poi adesso dovrebbe essere sfruttato nel senso che qui dovrebbero confluire studiosi di botanica studiosi della vita, antropologi e sociologi tutte quelle culture che devono servire appunto per recuperare del suo interesse all'antichità infatti io scrissi 6-7 anni fa un libro che trattava proprio di questi luoghi ed era improntato sulla focalizzazione di una tipica manifestazione del luogo caratteristica del luogo che è la cunicolazione delle acque cioè praticamente siccome parlavamo prima di clima atlantico che si sta instaurando il clima atlantico è piovosissimo circa il triplo di quello che eravamo abituati fino a 2-3 anni fa stiamo ritornando verso quel tipo di clima che esisteva fra il 900 e il 400 a.C. qua in questa zona dove ad esempio cresceva l'abete bianco c'erano foreste di abete bianco qua perché? Perché richiede una grande quantità d'acqua e allora a supporto storico nella seconda guerra punica Roma che già aveva conquistato già da tempo anche Veio e quant'altro chiese come contributo alla guerra punica 200 travi di abete bianco per farne le navi no la parte dorsale delle navi come si chiama? la carena la carena per fare la carena delle navi quindi vuol dire che qui in zona c'erano disponibilità di abete bianco e quindi anche in epoca concludiamo attorno al 200 a.C. sì allora questo per dire un noto personaggio dell'editoria italiana sì siamo qui ecco per diciamo presentare un nostro amico e il graditissimo ospite che ci illustrerà su un suo progetto che sta portando avanti un'iniziativa senz'altro meritevole prima di dare la parola al qui presente Claudio Tedeschi direttore emerito del Borghese anche per ragioni di eredità familiare vorrei dirti a proposito della instaurazione del clima atlantico che come diceva uno se devo morire preferisco morire annegato piuttosto che morire di sete e con questo andiamo avanti allora il progetto è molto semplice e oggi come oggi rileggendo la collezione del Borghese dagli anni 50 al 93 anno della morte di mio padre ho scoperto che molto di quello che fu scritto si è poi verificato che comunque corrispondeva alla realtà ed oggi molte persone sono costrette a rifarsi alla collezione del Borghese per poter recuperare le cose la dimostrazione si è avuta l'altra sera quando nella puntata della storia siamo noi di Minoli parlando di Federico Umberto D'Amato capo dell'ufficio affari riservati del Viminale bello lui io sono stato contattato da alcune persone della televisione che stavano preparando la trasmissione per avere del materiale e io ho passato del materiale sia un'intervista che fu fatta a D'Amato sul Borghese sia altre cose e nell'interno della trasmissione questo riferimento è stato fatto quindi significa che il Borghese come diceva Prezzolini è per poter conoscere grande autore del Borghese per poter conoscere grande autore in generale sì ma comunque per poter conoscere la storia d'Italia bisognerà andare in biblioteca a consultare la collezione del Borghese allora partendo da questo presupposto io ho iniziato a scannerizzare la collezione del Borghese per poter arrivare a metterla gratuitamente a disposizione sulla rete affinché tutti quanti possano riscontrare quello che fu scritto e quello che non fu mai detto da parte di chi ha gestito il potere nello stesso tempo insieme ad alcune altre persone abbiamo creato una cooperativa editoriale unicamente per libri elettronici per poter permettere a chi non ha i soldi per pagare gli editori per il cartaceo a pubblicare le loro opere in maniera quasi insignificante a livello economico questo anche perché molta gente viene tenuta fuori dall'ambiente dell'editoria proprio perché non può permettersi di spendere 5, 6, 10 mila euro per potersi fare un libro allora in questa maniera quei libri elettronici le spese sono ridotte all'osso e noi possiamo cominciare a portare avanti un certo tipo di editoria indipendente schierata su posizioni anticonformiste antipotere economico, politico, socio-economico e chi più ne ha più ne metta e andare avanti e spiegare ai giovani che ormai giovani insomma anche gente di 40 anni che navigano sulla rete che sono ancora giovani poveracci perché non avendo potuti iniziare a lavorare esatto si devono considerare per forza giovani apprendisti apprendisti stregoni anche perché io per esempio a parte il fatto la questione del lavoro nota di costume l'altra sera giovanotti durante un concerto si è rivolto ai giovani che stavano nella platea e scusate la frase ma così è stata detta giovanotti gli ha detto alzate il culo e andate a lavorare sarebbe ora allora se c'è un personaggio come giovanotti che si permette o comunque ha il coraggio di dire una cosa diciamo che ha il coraggio che ha il coraggio a fare queste affermazioni noi con la nostra piccola impresa di editoria elettronica cerchiamo di farlo dal punto di vista culturale ok grazie e a presto grazie a tutti